Siamo qui con Veronica Taborelli. Allora Veronica, l'LPM è stata autrice di una stagione talmente incredibile che oggi, nonostante la vittoria, forse c'è qualche rimorso. Sì, sì, diciamo che siamo state bravissime a tenere il ritmo e a recuperare anche dei momenti difficili. È stata una stagione incredibile tra alti e bassi per via della pandemia e tutto il resto, però siamo contentissime di essere arrivate a questo punto. Oggi i tre punti avrebbero permesso un maggiore vantaggio su Roma che sta inseguendo, però sono arrivati due punti e adesso la palla è appunto in mano a Roma. In caso di partecipazione alla postseason, quali sono le sensazioni della squadra? Sicuramente noi adesso staremo a vedere e quello che succederà succederà. Noi ce la metteremo tutta e in ogni caso puntiamo sempre alla promozione. Grazie.